e comincia l'avventura azione una bella scena con la spiaggia francesca è girando per la spiaggia leggende dove audaci marinai sfidavano la sorte alla ricerca dell'inarrivabile tesoro esatto sta cercando il tesoro eccolo è comparso per ottenerlo erano disposti ad affrontare le sfide più ardua francesca come faremo a trovare il tesoro di nuovo solo i più degni ed intrepidi sarebbero stati in grado di compiere l'impresa via 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 non c'era posto che la debolezza né per l'acqua dal dio perché loro erano pilati con la p maiuscola ed è qui che partiva il loro viaggio che l'avventura abbia inizio e qui sul titolo francesca una bella espressione da pirata vai una bella posa perfetto allora prima scena francesca dobbiamo trovare la mappa del tesoro dove sarà guarda un po in giro cerca cerca pensa bene pensa bene è lì nel cappello no dove sarà questa mappa e su questa scena andiamo un secondo in pausa stop fermi immobili diamo un pochino più di allegria e andiamo con l'happy hour azione guarda che bel sole che c'è esatto si può ballare bravissimi bravissimi e stop adesso la cambiamo un pochino la scena e andiamo a dare un tocco un po di spagna azione o le batti le mani francesca buon appetito vai vai con la paella vai vai molto bene bello questo ballo perfetto e per finire bene facciamo un salto in oriente diventiamo dei ninja non sai come fanno i ninja francesca le mosse di karate così perfetto brava francesca wow wow così e su questa bella immagine finale andiamo a festeggiare poi ballare e saltare è un trionfo tutti gli applausi del pubblico salutiamo tutti ciao ciao un bel applauso per francesca protagonista qui a vinci alla festa dell'unicorno diciassettesima edizione con unicorno green screen experience grazie francesca che sei stata con noi bravissima ciao francesca Grazie a tutti